Uno, partiamo con il palloncino numero uno, forza, via! Musica, musica, musica! Palloncino numero uno, prendete il palloncino numero uno, ragazzi! Vai, scoppiate, non fate la testa, è veloce, dovremo vedere chi dice! Vai, vai, forza, con il numero due, dai, forza! Passate al due! In vantaggio la squadra di Gianluigi, Gianluigi in vantaggio! Andate con il secondo! Ragazzi, seguite le istruzioni, seguite le istruzioni! Sentite le istruzioni, siamo pari! Finora siamo pari! Vi dovete impegnare, forza! Forza, leggete le istruzioni, forza! Forza, leggete le istruzioni, forza! Le avete continuate a raccontrare, no? Andiamo con il primo numero il vantaggio! La squadra di manco il vantaggio! La squadra non manco, non manco! Vai, andiamo se Gianluigi riesce! Dai, andiamo una vittoria a Gianluigi! Gianluigi in riscopia! Vai! Gianluigi in riscopia! Dai, andiamo una vantaggio! Tutti devono ridere, dai! Allora, Gianluigi! Vai, Gianluigi! Vai, Gianluigi! Aiutami un po'! Come si chiamava Gianluigi? Gianluigi! Loemi! Bravo! Facciamo un applauso, ragazzi! Facciamo un applauso! Facciamo un applauso! Grazie a tutti! Grazie a tutti!